E' stato presentato nel settembre del 2023, ma resta comunque un argomento attualissimo, il libro nero dell'azzardo, la crescita impetuosa dell'azzardo online in Italia, mafie, dipendenze e giovani. Non a caso ne parliamo anche in questa giornata, appunto, il 21 marzo, giornata in ricordo della memoria, impegno, appunto, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Noi vogliamo parlare, analizzare dati interessantissimi di questo rapporto con Marzio Govoni, Presidente Feder Consumatori Modena. Buongiorno Marzio, benvenuto. No. Buongiorno. Allora, partiamo subito da che cosa non vuole essere questo rapporto? Beh, noi abbiamo costruito un'indagine che non voleva, e non è stata, un'indagine sociologica sul fenomeno dell'azzardo, che indagasse aspetti che spettano ad altri, non abbiamo indagato in modo approfondito i dati epidemiologici, quelli legati ai disastri sanitari dell'azzardo, non abbiamo esaminato un aspetto importante come quale lavoro fanno le amministrazioni locali e l'amministrazione statale attorno all'azzardo. Ci siamo concentrati sui numeri, sui numeri terribili e difficili da ottenere e da ricostruire, perché a partire dal 2019 diversi di questi sono stati in modo incomprensibile resi inaccessibili. Siamo riusciti ad averli e abbiamo costruito un quadro sui dati 2022, ma oggi siamo in grado anche di dare le tendenze del 2023 che sono terribili. E così li abbiamo presentati, così abbiamo chiamato il libro nero, perché davvero quello è l'unico colore che ci è venuto in mente. E allora Marzio, provando a dare qualche cifra, facendo l'esempio del 2022, ma abbiamo capito possiamo tranquillamente anche scavallare al 2023, quanti miliardi di euro, perché parliamo di miliardi di euro che sono stati bruciati, per utilizzare un termine che si usa in borsa, dagli italiani nel gioco d'azzardo, io dico un numero, 136 miliardi, è una cifra impressionante. Magari, nel senso che nel 2023 siamo già a 150 miliardi, poco sopra i 150 miliardi. E si è facili profeti nell'immaginare che nel 2024 si possa arrivare attorno ai 165-170 miliardi. Quindi cifre incredibili, difficili da raccontare e da spiegare. Noi l'abbiamo fatto, ad esempio, prendendo a riferimento il Servizio Sanitario Nazionale, che costa la collettività 128 miliardi. Quindi l'azzardo ha superato il costo della sanità pubblica italiana. Stiamo parlando di giocato. Se poi stessimo alle perdite, ragioniamo all'incirca di un 20% di queste somme, sono ugualmente terribili. Si avvicinano ad esempio a una manovra finanziaria piuttosto importante. Noi da un po' di tempo utilizziamo anche un altro indicatore, che è la spesa alimentare. Il complesso della spesa alimentare degli italiani è di 160 miliardi. È stato di 160 miliardi nel 2022. Quindi è possibile, è probabile, quasi certo, che nel 2024 noi vedremo il sorpasso della spesa per azzardo sulla spesa alimentare. È un dato incredibile. Sì, è stato un dato drammatico, Govoni. Esiste una relazione tra la situazione socio-economica finanziaria e l'aumento del gioco d'azzardo? Sì, sicuramente sì. Quando crescono le incertezze, quando crescono le crisi, tante persone si buttano sull'azzardo cercando una risposta ai problemi fatta di un colpo e via. Ovviamente è un atteggiamento che alimenta le crisi, fa crescere i disastri tra le persone. Quindi sì, cresce soprattutto nei momenti di crisi, come quello che abbiamo in questo momento. E tra i tanti record che purtroppo l'Italia detiene, quello della diffusione dell'azzardo online è uno di quei record che ci vede i protagonisti, perché siamo ai primissimi posti nella classifica mondiale per la diffusione del gioco d'azzardo online, che è un record, francamente, di cui, Govoni, faremo davvero tranquillamente a meno. Decisamente, decisamente. È un dato che il nostro rapporto ha esaminato in profondità, perché i dati sul azzardo online non sono stati segretati. E quindi l'abbiamo esaminato a livello comunale, soprattutto per le regioni del sud, dove i dati sono più drammatici. E il sottotitolo del nostro rapporto, che fa riferimento alle mafie, è piuttosto esplicito. È evidentissimo che le mafie hanno scelto il canale del gioco online legale come luogo dove riciclare capitali. Lo dicono i rapporti parlamentari, lo dicono persino le aziende del settore, che c'è un qualche problema da questo punto di vista. Il motivo è presto detto. Il gioco online, a differenza del gioco fisico, non ha i costi fissi. Non deve pagare un affitto, il noleggio delle macchinette, il lavoro. E quindi può permettersi di, virgolette, restituire al giocatore una percentuale molto più alta. Mentre ad esempio nel gioco fisico, mediamente il giocatore perde il 26-27%, nel gioco online questa cifra si riduce al 6-7%. E quindi il riciclaggio attraverso l'online con false identità è, per le mafie, veramente una manna. Lei è presidente della Feder Consumatori Modena, ha anche curato questo importantissimo rapporto di Feder Consumatori. In un'indagine che avete, appunto, della Feder Consumatori di Modena, su un campione di oltre mille ragazzi delle scuole superiori modenesi, è il risultato che quasi un terzo, e quasi tutti i minori, ha dimestichezza con l'azzardo. Sì, è così. È un'indagine che non definiamo campionaria, perché il livello di adesione nelle scuole che abbiamo mappato è stato davvero altissimo, attorno al 20% dei partecipanti. Il dato è davvero complicato, quasi il 40% dei ragazzi ragazzi ci dice che ha avuto almeno un'esperienza con l'azzardo illegale, perché stiamo parlando di minori. Dentro c'è una curiosità assolutamente giustificata, quindi depurando questi numeri, questi dati, da chi ha voluto provare una cosa. Noi però troviamo un 14%, un ragazzo su 7, in linea con i pochi rapporti nazionali, che è un giocatore abituale, già a 15, 16, 17 anni. E il nostro rapporto consegna anche un'altra questione. Noi abbiamo mappato anche, con molta discrezione, non parlando direttamente d'azzardo, i ragazzi nella fascia da 11 a 14 anni, che solitamente non è considerata. Abbiamo scoperto che la popolazione maschile, tra 11 e 14 anni, circa il 70% ha avuto proposte online di gioco d'azzardo, mentre giocavano a giochi online, diciamo così, legittimi. Sono aperti dei pop-up e hanno avuto proposte di giocare d'azzardo con 50 euro regalati per la prima partita, piuttosto che sotto altre forme. Quella della pubblicizzazione nell'azzardo, in particolare nella fascia giovanile, è uno dei problemi che davvero la nostra indagine solleva. Poi ce n'è un altro che voglio selezionare, è quello delle strutture miste. Uno dei luoghi di gioco privilegiato per i ragazzi, di avvicinamento all'azzardo, sono ad esempio i bar con le slot, con le macchinette, cioè quei luoghi dove si mischia il caffè e l'azzardo, che rendono normale giocare d'azzardo, portano ad emulazioni. Ecco, qui davvero ci vogliono regole molto molto restrittive, molto più restrittive di oggi. Govani, per concludere, riusciamo a tracciare anche un breve identikit di un giocatore d'azzardo tipo? E poi veniamo anche ai consigli pratici, che cosa fare per limitare questa che definirei una emorragia di denaro? Sì, fatico a identificare un profilo tipo di giocatore. Noi abbiamo avuto, Fedel Consumatori fa attività nelle scuole da molto tempo, incontriamo i ragazzi e abbiamo degli sportelli sovra indebitamento specificatamente rivolti a chi ha dei problemi con l'azzardo. A noi è capitato di parlare con due persone, uno era il datore di lavoro e l'altro era un operaio della stessa azienda. Quindi il fenomeno è un fenomeno che pesa sicuramente molto di più sulla fascia di reddito medio-basso, per ovvi motivi, ma che coinvolge l'intera popolazione e tutte le età. Adesso stiamo lavorando a un rapporto su anziani e azzardo, che ci sta consegnando una condizione assolutamente sepolta, non valutata, di azzardo soprattutto femminile, soprattutto legato ai grattelinci, che assume in molti casi dei livelli di patologia forti, importanti e non riconosciuti. Per quel che riguarda i consigli, il primo è quello di riferirsi alla sanità pubblica quando si intuisce di avere un problema con il gioco. La sanità pubblica è attrezzata per affrontare questo tema, esistono servizi in tutte le province d'Italia, esistono dei professionisti egregi che affrontano questi temi e bisogna riferirsi a loro anche se si è familiari. Una caratteristica di questo tema è quello che i giocatori faticano a capire in quale condizioni sono e spesso sono, a noi capita, sul indebitamento, spesso sono i familiari a rivolgersi. Anche i familiari possono muoversi nei confronti della sanità pubblica e con la sanità pubblica trovare il modo per affrontare la questione. L'altra questione è ricordare una banalità, ma che evidentemente non entra nella testa delle persone, che qui vince sempre il banco, che le grandi vincite sono non solo rare, ma praticamente impossibili e che per una grande vincita ci sono milioni di persone che perdono reddito e che possono precipitare se stessi e la propria famiglia in disastri difficili anche da ricostruire. Una delle prime ragioni di separazione nel nostro paese è proprio l'azzardo di uno dei due coniugi. Noi diciamo, assieme ad altre associazioni, che è necessario fare un bilancio sociale dell'azzardo, che vuol dire che non si possono considerare soltanto le entrate per tasse, bisogna considerare anche le uscite. Solo che è davvero difficile conteggiare le uscite. Una persona che arriva a decidere un gesto estremo, come la calcoli? Non è possibile. Una famiglia che si disgrega, una separazione. Come costruire la descrizione reale dell'azzardo fuori dalle pubblicità luccicanti è uno degli scopi che la nostra associazione, ma direi tanti soggetti, in questo momento stanno cercando di fare. Grazie per quello che fate, grazie per le sue parole, per questo quadro davvero illuminante. Marzio Govoni, presidente di Feder Consumatori Modena, restiamo come sempre a disposizione per dare spazio e per parlare di questa drammatica piaga che purtroppo colpisce il nostro paese. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Bene, allora chiudiamo questa parte con la pubblicità, Paola, subito dopo rientreremo per l'ultimo spazio Just Today e lo facciamo con la rubrica di Don Francesco Armenti Dritto al cuore, ma adesso andiamo in pubblicità.